per favore mettetevi due mani qua davanti a i capezzoli su youtube sono bannati vedete che c'è c'è alborito ma è così devi censurare esatto così devi fare fatica censurare non li posso inquadrare dopo mi blocca la monetizzazione del video perché poi perché la monetizzazione vi dico solo che la monetizzazione nei canali di mountain bike tutto il mio video tendenzialmente guadagna quanto un'ora di un'ora di forse un ingegnere potete farvi i vostri conti vi faccio l'esempio di come funziona la monetizzazione su youtube per ivo youtube fa così prende questo ivo fai il video grazie youtube non mi posso avvicinare siamo ancora in lockdown c'è due metri tra di voi ragazzi siamo tornati al monza pizza bike park prima session per tutti io vabbè sono già venuto a saltare un po' sul bag però in realtà sugli altri salti zero fermi tutti fermi tutti perché ho un regalo per ivo vieni con me ho deciso di regalare la mia bici da ivo ivo è tua grazie alboreto grazie si vende la bici di alboreto questa è la bici di alboreto però facciamo vedere la nuova bici da downhill di ivo siete pronti? don 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 cos'è? don 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 attenzione oh attenzione è molto simile alla mia vecchia bici anche ivo è stato convertito alla bici da downhill di rose quindi questa consegna mi costringe a montare la nuova bici da downhill che farò prossimamente in un video che vedrete probabilmente vabbè grazie ivo puoi chiuderti in macchina e noi andiamo a girare ciao ciao ivo ciao ciao facci sentire il sound della ruota perché qua è la cosa più importante si avvicini dottore basta non ci sono altre parole il video può finire qua è vero adesso l'hater salta fuori dicendo ha copiato pure la bici di rose fermi tutti ragazzi fermi tutti qui bisogna fare come si dice un nel discorso un inciso mi è venuto in mente hai visto mi è venuto in mente tu studia continua a studiare che non sai neanche parare italiano ragazzi un canale un inciso va detto che ivo questa settimana ha ricevuto un dissing estremo no non dava niente insomma diceva che copiava i miei video che anch'io quando ho fatto il video dell'unboxing ho detto mi piacciono i video di yakidale che fa gli unboxing non ci sono video unboxing di bici o robe del genere solitamente su youtube in italia quindi ho detto lo faccio anch'io ma non è che allora diventiamo dei copioni l'idea di base la prendi spunto da qualcun altro per certe cose è tutto lì quindi ragazzi chiuso questo argomento dovete solo apprezzare il fatto che in questo caso ragazzi dedicano il loro tempo per portarvi contenuti nient'altro basta chiuso finì sigla 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 questo è il nuovo gadget per l'estate ragazzi per le serate d'estate Chi è venuto al Monza Pizza Sa che alla sera purtroppo d'estate ci sono le zanzare Moscerini eccetera eccetera Purtroppo in un campo è normale che ci siano Ma tu su questo fresco come una rosa Vivo copia anche Toto Nell'ordine in cui salire le scale Vivo però mi copia anche quando salgo le scale Salili in un altro modo le scale Sì Primo giro La sensazione è strana Solo perché Cioè no non c'è niente da dire in realtà È strana perché non girano da tanto Cioè basta Copia anche nello stile di riding Comunque Trennello Mamma mia Aspetta che scarica la batteria Vai Cosa fa io? Il problema è trick Sono pronto per vederti Avere successo in questo trick Ecco questo il problema Di quando non girano tanto Che il commitment in questo caso c'era ragazzi Sono stato troppo lento con le mani in aria E l'ultimo bar speed non ci stava Quindi ho cambiato idea a metà bar speed Anche Ivo sta provando i suoi primi trick Ma l'ultimo L'ultimo mi incarto a farlo L'ultimo lo rallento Di solito non mi soffermo a rifare tanto il trick una volta che mi vengono Ma siccome abbiamo appena finito un periodo di stop E non ho fretta Perché tanto gare Ce ne sono ben poche adesso In programma E farò un altro 3x bar Per riprendere un attimo la confidenza con questo trick super tecnico Oh Ma sarà decisamente più veloce Mani veloci Lo chiamavano Troquato mano lesta I nostri nasi si uniscono Il congiunto è congiunto ragazzi Io vedo più toto Della mia ragazza in questo momento Ritornando ai discorsi seri Sapete cosa non mi ricordavo ragazzi Di tutto il girare Quanto faticoso sia Non è che ho girato tanto Abbiamo fatto qualche salto Però Mi sono già cotto quasi Nel senso sono stanco Posso affermare che anche in dirt Si fa fatica Anche se non sembra fuori Perché qualcuno dice Beh fa il salto poi si ferma E in realtà no Sapete Dovevo farlo Scusa erano me Lato negativo è che Però adesso non ci sono contest da fare Quindi vabbè Non si può competere Ma lato positivo È che non avendo contest a breve Possiamo non star qui a ripetere i trick Soliti e solo allenarci Perché dobbiamo fare i trick Possiamo dare spazio Alla nostra creatività totale Adesso Linea panettoni Io parto sdraiato Sul pianetto del panettone Con la bici di fianco Tu mi devi saltare via Poi tu Tu ti fermi Sul secondo Ti sdrai E io ti devo saltare via E così via E sai che quasi non ho paura per la mia persona Ho quasi paura per te Perché sono re delle ingheppate Facciamo il bim bum bum Per chi Salta per primo Esatto Quindi chi vince salta Non bim bum bum Ma sasso carta forbice Bim bum forbice Dai bim bum forbice Bim bum forbice Bim bum forbice Io mi sdraio per primo Perché mi ho perso Mi raccomando Non fatelo a casa ragazzi Questi due sono due Tre professionisti Di slam Ce l'abbiamo Ivo Pugnato a distanza Grazie Ciao Occhio eh Occhio Rischioso Paserà o gli taglierà la testa? Ma Ivo Schiaccia la testa Il buon modo per andare insieme Qualcosa non so quanto si vede Si si vede Vuole sempre essere al centro della televisione Seguitevi su Instagram 40.000 persone seguono il toto Al bonetto c'è 4.000 follower Mi raccomando non fatelo a casa L'abbiamo fatto per dilettarvi Non fatelo a casa Perché è un pochino Pericoloso diciamo Perché se per caso Mancate una pedalata Terate sulla faccia di Ivo Non sulla mia ovviamente Io ho uno schermo protettivo Ivo invece no Ragazzi Salutatela Perché probabilmente Probabilmente ragazzi È l'ultima volta Che vedete questa bici In da dirt In un mio video Arriverà qualcosa di magico Forse 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 Se rivedete quella bici lì Vuol dire che quello di magico Arriva dopo Direi che in questo video Vi abbiamo fatto vedere La sufficienza Per mantenervi davanti allo schermo Ma lasciarvi sempre con quel Come si dice al boreto Eh ma mi ascolti però Quando parlano Mi ascolti Cosa sono qui a fare Quello sghiribizzo Un po' di suspense Esatto Vi abbiamo lasciato un po' Quella suspense Per i prossimi video Magari in park Dateci delle idee Per che cosa volete vedere In park Qualcosa di nuovo Innovativo Che avete visto in altri video Non si copia Ivo Coglione Iscrivetevi al canale Che è base Punto per vedere i miei video Altra cosa Altra cosa Così era Ma no ma dovevo dire Qualcos'altro prima Continuo a dirlo E l'avete detto Colpa tua Vedi Perché al boreto Me l'ha ripetuto Talmente tante volte Pomeriggio Vi ricordo che c'è il giveaway Quando arriviamo A 50.000 iscritti Quindi mi raccomando Questo è il motivo Per iscriversi Vedi Meno male che ci penso io Albi Terza e ultima cosa Se effettivamente Quest'anno di contest Non ci saranno più Sto valutando L'idea Di portare Forse Più video a settimana Due No Due video a settimana Se voi fate esplodere tutto Io porto Più contenuti a settimana Se voi mi fate venire voglia Lo faccio Basta ragazzi Direi Chiudiamo Ci vediamo Un prossimo video Ciao a tutti